Ciao, oggi è il primo luglio e siamo in Sicilia, esattamente a Portorosa, siamo arrivati qua molte ore fa in verità, solo che mi vergognavo di vloggare, adesso invece stiamo andando alla nostra imbarcazione Poi spiego, vabbè, basta, che spiega, che non ti spiega Siamo sulla barca che ci ospiterà per i prossimi sette giorni, facciamo questo viaggio in barca per le isole Eolia e in pratica Siamo qua signore? Sì, dai, mettiamoci qua C'è anche un'altra barca con influencer germanici, ci dobbiamo affondare Quindi siamo due io, due barche a vela, una con noi e un'altra con quelli tedeschi Non siamo due barche a vela, stiamo su due barche a vela perché Io e Franz dormiremo di là, alcuni dormono di là, le stanze sono fatte in questo modo, fine, sono tutte così Poi c'è il bagno che si apre da qua, però si esce da qua E' la stessa cosa mia, sei umiliato E' la cosa bella di questa barca, che c'è anche un fuori, c'è anche la parte di sopra della barca No, no, non così, che è questa qua Ed è la mia prima esperienza in barca, io non ho mai fatto un viaggio in barca nella mia vita Non come Franz, che invece è un lupo di mare Marinaretto Il nostro scopo è solo quello di divertirci E ora ci dirigiamo verso la cena Sei ridondante Tua madre è ridondante Questo è il nostro tavolo Della barca Agathos Chi ti ha detto il nome della vostra barca? Tu Questo è buono E' un fungone Sono pieno Welcome in my crib Allora è l'una, la doccia ce la siamo fatta Poi sto un po' angusto E scusate se non ho vloggato abbastanza ma Buongiorno, vuoi non rompere Buongiorno Cristina Musacchi, mi metti l'acqua? Prego Fra un'oretta dovremmo salpare E andare alla prima isola Sei felice che si parte? Sicuramente un bambino stupido Fra un po' dovremmo partire E andare verso Salina The romantic village of Salina On this twin peak island Offered a variety of boutiques E' un po' di più Siamo arrivati all'isola di Salina La cipela delle olie Stavo vomitando Io soffro di mal di mare Come va Franz? Tutto bene? Sei sopravvissuto? Andiamo a farci la doccia Vieni Franz Ci siamo fatti belli E adesso andiamo a visitare Salina 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 Ci andano a fare il wine tasting Cioè lui berrà il vino e mi dirà se è buono o se non è buono Te lo vomito in bocca Io non bevo il vino Non si fa No non si fa Non si fa Ok Comodori, capperi, ricotta, salata e basilico Il wine tasting è finito Io non ho bevuto nessun bicchiere di vino Però in compenso mi sono buttato il bicchiere d'acqua addosso Franz invece è completamente ubriaco E c'è ancora cattivo tempo Adesso sto capendo di subriaco Fra un po' si cena Ma la finisci? Lei è la mia nuova migliore amica Si chiama Cristiana Musacchio Inizierò anche a fare video Però ho un milione di follower Ha iniziato a piovere Si fa cenare Sono le 21.10 Franz si è portato una torcia potentissima da casa E sta passando tutta la sera da bandarsi di questa torcia Io sono invidioso Ragazzi siamo in questo posto super pettinato Tanto lo uso anche il rotoglip E' arrivato il carpaccio di tonno E' molto buono E' arrivato il mio totano E dato che siamo in Sicilia Non potevo mancare il famosissimo Che hanno dato la Sicilia Questa non è crema E' ricotta Ci sta un party Ok ragazzi E' una buona partita Quella è la nostra tavola Francesco è stanco E volevo trovare la distanza Mi lascia la solo Non sono stanco Metti a posto la stanza Ma che vuoi? Chi è? Buonas dia Franz Chi è? Buongiorno Guardate un po' che bel sole Che fai Franz? Che bella questa A quanto pa' è stamattina E' previsto un giro in scooter Per tutta la città Io purtroppo per fortuna Ho lasciato la mia patente di guida a casa Però monterò in sella Alla motovettura di Franz Franz sei pronto? Siamo arrivati al faro Siamo arrivati Questa si fa Sopravvissuti Franz fa volare il drone? Evviva! Ci hanno regalato questi orologi In una scatola super lusso Che però dovrà condividere con Franz Perché due sono di Franz E due sono miei Stiamo andando a Panarea Siamo quasi arrivati a Panarea Il viaggio è stato perfetto Guardate un po' cosa è arrivato Il riso nell'ananas Attenzione Avete notato qualcosa di strano? Riguardiamo la scena ad un altro punto di vista Qua ho indosso i miei occhiali da sole Poi mi tuffo E qua non ho più indosso i miei occhiali da sole Questo tragico evento è passato inosservato agli occhi di tutti Te non ti butti? Fa freddo Io sono età Ci siamo? Ci siamo Un po' più indietro così non ci bagniamo Siamo a Panarea Abbiamo due ore per visitare la città E poi ci vediamo tutti quanti insieme alle 7 A fare aperitivo sulla terrazza Come i veri ricconi Ci siamo presi la caratteristica granita Granita, limone e menta L'aperitivo è finito Adesso si va a cena Si mangia ancora Ha vinto il sushi Stiamo aspettando il nostro sushi da due ore Sono le 10 Però stiamo facendo amicizia con gli instagrammer tedeschi È arrivato il nostro sushi Adesso non lo dividiamo? Adesso ci sta un party Che non so se ci andrò perché sono stanco Anche loro sono stanchi Devo dire che i membri italiani della nostra barca Non sono molto festaglioli Non ti è piaciuto il sushi Ma certo Ragazzi io vado a dormire Domani si andrà Allo stromboli Lo scaleremo Ma questo lo scoprirete in un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti.